La procura di Avezzano ha aperto un fascicolo a carico del 56enne che ieri notte a San Benedetto dei Marsi ha sparato contro l'Orsa Marena uccidendola con un fucile detenuto regolarmente. Madre di due piccoli che soltanto pochi giorni fa erano stati filmati da residenti e turisti nella frazione di San Sebastiano dei Marsi nel comune di Bisegna, mamma Orsa non ha avuto scampo. L'ho trovata dentro la mia proprietà e ho sparato per paura ma non volevo uccidere, è stato un atto impulsivo, istintivo. Sarebbe stata questa la dichiarazione rilasciata ai carabinieri di San Benedetto dei Marsi dall'uomo che ha colpito a morte a Marena, privando l'Abruzzo di uno dei suoi simboli faunistici, già orfano del cucciolo, Juan Carrito, investito lo scorso gennaio a Casteldisangro lungo la statale 17. Per l'uccisione di a Marena il 56enne rischia una pena da quattro mesi a due anni di reclusione per il reato 544 bis del codice penale riferito a chiunque procuri per crudeltà o senza necessità la morte di animali. Il tragico evento si è consumato alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dall'area contigua dello stesso e mentre sui social è già iniziato il processo mediatico a caccia di colpevoli e responsabili, il direttore del PNALM, Luciano San Marone, prova a fare chiarezza e al netto delle conseguenze giudiziarie dell'accaduto, riporta l'attenzione sulla priorità del momento, la ricerca dei due cuccioli, orfani di madre, che dopo la morte di a Marena sono fuggiti terrorizzati. L'episodio è gravissimo, nemmeno a dirlo, noi abbiamo perso una femmina riproduttiva, tre anni fa ci aveva regalato quattro cuccioli, portandoli tutti e quattro a superare il primo inverno, fatto questo anche abbastanza eccezionale, quest'anno altri due, una femmina che si muoveva tantissimo sul territorio, lo conosceva benissimo e aveva iniziato a frequentare queste aree basse nella pianura della Marsica alla ricerca di cibo. Le circostanze in cui tutto questo è avvenuto ovviamente saranno valutate dalle autorità competenti, prima di esprimere un giudizio chiaramente aspettiamo perché fino a prova contraria non diamo giudizi di colpevolezza, di sicuro la persona si è autodichiarata, autodenunciata, i nostri guardia parco che sono intervenuti sul posto perché stavano facendo servizio di perlustrazione, di pattugliamento perché San Benedetto De Marsi è fuori dal parco, fuori dall'area contigua, eravamo in zona per assicurare sia un minimo di pubblica incolumità e anche di tutela, purtroppo non ci siamo riusciti, degli orsi, questo insieme ovviamente ai comandi stazione dell'arma e dei carabinieri forestali. Le circostanze lasciano qualche dubbio perché è stata uccisa con un fucile da caccia da verificare ancora il munizionamento perché se fosse a palla unica sarebbe ovviamente una munizione vietata, ma fucile da caccia che di questi tempi dovrebbe stare chiuso in un armadietto a prova di scasso, da un'altra parte dovrebbero stare le munizioni e quindi insomma tutto questo andrà ricostruito. La presenza di Amarena sul territorio era però una presenza ormai usuale, abituale, noi avevamo ricevuto tantissime altre segnalazioni. Ora la vera emergenza e la vera criticità è però legata ai cuccioli, che sono cuccioli di quest'anno, hanno circa otto mesi, si trovano insomma in un ambiente che non è proprio ideale per dei giovani orsi e li stiamo cercando per provare a catturarli e dovremo catturarli senza anestesia perché appunto sono giovani e poi riportarli in ambiente montano. Ovviamente una volta valutate le condizioni complessive valuteremo insieme al team di esperti come muoverci, se replicare l'operazione morena di qualche anno fa oppure rimetterli direttamente in natura. Ma in questo ovviamente ci confronteremo sicuramente appunto con gli esperti, con il Ministero dell'Ambiente e con ISPRA che è l'istituto di riferimento. Da un punto di vista procedurale il parco ovviamente si costituirà parte civile così come abbiamo fatto d'altra parte in occasione dell'episodio analogo di Pettorano sul Gizio.